Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo del cheat meal. Me lo chiedete? Anche questo? Tanto? Io qualsiasi video faccio perché me lo chiedete tanto? Quindi cerchiamo di ragionarci un po' insieme e vi butto giù un po' di idee se tenerlo, perché tenerlo, bla bla. Allora, generalmente io sono favorevole al mantenimento di un cheat meal per un discorso sociale in generale. Ora, se ragioniamo soltanto da un punto di vista fisico, cioè di risposta fisica, di risultati fisici, quindi solo isolando questa componente, il cheat meal è negativo, perché qualsiasi cosa io posso ottenere da un cheat meal quindi un pasto totalmente libero che può essere un surplus energetico, surplus di gas, di carbo, quello che vi pare lo posso ottenere e lo ottengo ancora meglio con una ricarica pulita, con un pasto pulito sostanzialmente quindi ben organizzato secondo il piano che posso monitorare, tracciare e valutare, modificare, modulare nel corso della settimana, delle settimane, del mesociclo e della fase di bulk. Però, se guardiamo il quadro nel complesso, quindi anche un discorso, un fattore psicologico, per me il mantenimento di un cheat meal e di un certo grado di libertà in generale è abbastanza importante. Ora, farò un video su quello che cambierò io nella mia off-season, nella gestione dell'off-season quindi approfondirò un po' generalmente l'argomento, però adesso voglio concentrarmi sul discorso del cheat meal. Quindi, dal mio punto di vista, in fase di bulk dovrebbe essere tenuto un pasto libero, almeno uno all'interno della settimana. Quindi, prima di tutto, cerchiamo di vedere come inserirlo, come organizzarlo in generale. Partiamo dal presupposto che gli studi e su quelle che sono le tecniche di refeed, quindi il refeed day, di refeed come pasto, piuttosto che il break diet, dimostrano tutto come un andamento a scalare, quindi un periodo di restrizione e dei refeed, periodo di restrizione e un refeed day, eccetera, o due refeed day siano superiori a parità calorica rispetto al mantenere le calorie stabili. Quindi già per questo l'inserimento di un cheat meal o di uno spike generalmente calorico in un certo giorno è positivo. E quello che normalmente io consiglio è di tenere una base diet, quindi una dieta normale nel corso dei vari giorni, e avere un pasto libero all'interno della settimana. Quindi seguo la mia dieta, normalmente, e poi c'ho un singolo pasto libero. Quindi quel giorno, normalmente, io seguo la mia dieta e faccio questo pasto libero singolo. Ora, per quanto riguarda la gestione della base diet, io generalmente quello che faccio è tenere i carbo alti e i grassi bassi. Questo sia perché ho già parlato spesso del fatto che i carbo sono il nutriente su cui più puntare in fase di bulk, ho parlato della Cigi Razio, in questo caso vi dico che normalmente quando c'ho il cheat meal di mezzo io tendo ad avere i grassi un po' più bassi di quanto dovrei. Per il semplice fatto che il cheat meal normalmente è molto lipidico, cioè è difficile andare a mangiare qualcosa fuori o avere dei gusti che ci portano a mangiare in maniera poco lipidica. Poi che ci siano più o meno carbo dipende, se mi faccio delle bistecche o un hamburger ci sono pochi carbo, hamburger e patatine fritte alla fine, relativamente pochi rispetto ai grassi. Se mi mangia una pizza o un sushi magari ci sono un po' più di carbo, però generalmente l'orientamento è sempre un pasto molto molto lipidico. Quindi da questo punto di vista tendenzialmente se voglio avere una minima traccia o considerare il cheat meal so che ci avrò uno spike di grassi nel corso della settimana e quindi nel resto del giorno posso stare un filo più grasso di grassi. Ora non voglio dire di compensare. Voi tenete sempre la vostra base diet, eventualmente ciclizzate giorni on e giorni off, ma non fate che al giorno del cheat meal non mangio grassi, al giorno dopo non mangio grassi, eccetera. No, semplicemente nella vostra base diet invece di avere magari 55 grammi di grassi che dovreste avere, ne avete 50, ne avete 45. Diminuite un pochetto semplicemente, magari anzi salite un filo più di carbo. Questo è. Però abbiate il vostro pasto libero nel corso della settimana. L'altra accortezza, e veramente forse l'unica altra accortezza che io inserirei per quanto riguarda la gestione del cheat meal è quella di allenarmi almeno un giorno nel weekend. Nel senso allenarmi, ipotizzando che logicamente facciate il cheat meal il weekend, o il sabato o la domenica. In realtà è il momento, sono i giorni più belli per allenarsi perché c'è meno gente in palestra, siamo anche un po' più liberi rispetto al lavoro, eccetera. Quindi è una cosa che esorto a fare a prescindere. Non deve essere un'ossessione, però comunque avere semplicemente, non avere anche magari due giorni di resta attaccati è comunque generalmente una buona soluzione. Però lo scenario è questo, se mi alleno la domenica, immaginiamo il cheat ce l'ho il sabato sera, se mi alleno la domenica arrivo bello carico dopo aver fatto un cheat meal, se mi alleno il sabato veicolo tra virgolette meglio il cheat meal. Di nuovo, non voglio che sia un'ossessione, deve essere un pasto libero, quindi un pasto che faccio in maniera spensierata, però comunque è buona pratica quella di allenarsi a ridosso. Poi normalmente quello che faccio io è, per esempio, mi alleno il sabato mattina, faccio un bel post-workout glucidico, come al solito, la mia giornata la seguo normalmente, il sabato sera mi vado a godere una scena fuori, qualsiasi cosa essa sia, e poi magari la domenica mi posso allenare o non mi posso allenare, dipende come è impostata la split, però easy così, molto molto semplice. Quindi questa è un po' l'impostazione. Ora, altre cose su cui voglio riflettere riguardano uno l'inserimento di più cheat meal nel corso della settimana. Questa è una cosa che può essere fatta se abbiamo un buon metabolismo in generale, se tendiamo a dover spingere un po' anche a livello metabolico, e quello che molti atleti fanno è tengono, e io ho fatto per un periodo, è molto interessante tenere un cheat meal pulito, tra virgolette, un cheat meal totalmente libero. Cheat meal pulito che cosa intendo? Una pizza fatta in casa, che non deve, io lo dico perché mia moglie fa una pizza che è meravigliosa, però, per esempio, ecco una cosa che può essere fatta, un hamburger fatto in casa. Noi avevamo il mercoledì la serata hamburger. Era molto molto interessante come cosa, perché? Di base facevamo un macinato magro, i pomodori, la lattuga, una salsa buona, non quelle schifose, super pesanti, eccetera, al massimo dell'olio, utilizzato olio evo crudo, e del pane, che poi ogni tanto Giorgia faceva fatto in casa, quindi proprio la morte, però normalmente il pane non utilizzavamo la rosetta, quindi pane non quello confezionato, ma quello fresco, e ci facevamo 3-4 hamburger, una cosa del genere, dipende un po' dalla fase, dipende dalle cose. È un modo per tenere traccia e spezzare un po' la settimana, quindi avere un reward in qualche modo psicologico, che poi era comodo perché nelle fasi di bulk più spinto era un momento in cui mangiavo meno, quindi riuscivo un po' a disintossicarmi, nelle prime fasi di bulk invece era un momento in cui mangiavo di più, quindi c'era comunque il reward in entrambi i casi, in entrambi gli scenari. Invece poi il sabato sera è il cheat completamente libero in cui si esce a cena fuori, eccetera, e questo è anche un approccio molto interessante, molti atleti lo fanno, che hanno una serata dedicata a una particolare cosa, che però, non dico che tracciano, bene o male vanno abbastanza liberi, però utilizzano delle materie prime in qualche modo pulite. Per cui questa è un'altra cosa, se no, un altro punto che può essere inserito e che è altrettanto interessante è quello di avere il free plan nel weekend. Che cos'è il free plan? È semplicemente decidere che dal sabato, per il sabato e la domenica, o venerdì sera fino a domenica, ho tutti i pasti liberi. Attenzione, è diversa come impostazione rispetto al cheat meal, nel senso non è che mi sfondo tutto il weekend, ma ho pasti liberi nel senso che non tengo traccia di quello che realmente mangio, vado a mangiare, però comunque ho delle regole di base per cui vado sostanzialmente a moderarmi, quindi posso fare un'insalata particolarmente ricca con dei legumi, delle polpette vegane, vi dico quello che piace personalmente a me, che mi cucina mia moglie, ha delle polpette vegane, piuttosto appunto che degli hamburger puliti, quindi non hamburger presi fuori, pieni di sugni e tutto il resto, quindi qualcosa fatto in casa, o una pizza fatta in casa, oppure andare a mangiare il sushi, poi all'interno magari un pasto libero in cui si va fuori, una bella bistecca, quindi una grigliata di cose, una bella baguette, insomma tante cose di cui non tengo traccia, semplicemente non conto, non vado neanche a pesare il cibo, che stanno fuori da quella che è la mia base diet che ho nel corso della settimana, però appunto non impattano in maniera negativa perché sono a fase di bulk, sono a fase molto tranquilla, e alla fine l'input calorico non sarà troppo elevato, e mi oriento su quelli che sono, non tanto i miei macros, però cerco di mangiare per esempio più glucidico, non esagerare con i grassi, mangiare una buona quota proteica, quindi queste sono le regole generali. Ora su quest'ultimo discorso di nuovo farò un video in cui vi spiegherò come ho intenzione di gestire quella che sarà la mia off-season, secondo proprio quest'approccio del free plan. Sarà un video abbastanza lungo, sarà un video abbastanza delicato, quindi vi rimando poi a quel video per approfondirlo ulteriormente. Nel frattempo ragazzi ditemi la vostra, se voi inserite il cheat meal, come lo gestite in generale, che approccio fate, io l'unica cosa che vi esorto è non cercate di compensare, ossia faccio il cheat meal, il giorno dopo non mangio, faccio il cheat meal, il giorno stesso non mangio. Cioè voi seguite semplicemente quella che è la vostra alimentazione, avete quel pasto libero, dal giorno dopo si riprende quella che è l'alimentazione normale, senza alcun cambiamento. Però scrivetemi la vostra qua sotto e detto questo, niente, ci vediamo al prossimo video.